E' stato scoperto dalla NASA, tramite la sonda Keplero, un pianeta extrasolare che potrebbe avere le stesse caratteristiche della Terra. Kepler 452b ha un diametro che è 1,6 volte quello della Terra e la stella Kepler 452 ha un diametro che è il 10% più largo del Sole e ha il 20% di luminosità in più. Ecco una rappresentazione digitale di fantasia. In essa è possibile effettuare una comparazione visiva delle dimensioni dei due pianeti e delle due stelle, il Sole a sinistra e Kepler 452 a destra. Quella stella è lontana, 1.400 anni luce. Ciò vuol dire che il messaggio che arriva alla sonda Kepler è partito 1.400 anni fa e quindi rappresenta una situazione non attuale ma lontana nel tempo da far sì che quegli avvenimenti, quelle situazioni siano contemporanei a ciò che sulla Terra accadeva 120 anni dopo la caduta dell'Impero Romano che è avvenuta nel 476 d.C. Inoltre per avere un'idea delle grandezze in gioco facciamo un esempio. Se riducessimo il Sistema Solare che per noi è già enorme in modo tale da poterlo contenere in una stanza di 4 metri per 4, Kepler 452b verrebbe a trovarsi a una distanza di 19.860 chilometri che corrisponde a più del doppio della distanza Roma-Tocchio. Se questa constatazione può sembrare sbalorditiva lo è ancor più prendere in considerazione che tali distanze risultano insignificanti rispetto alla vastità della nostra galassia senza nemmeno far cenno alle dimensioni dell'Universo. E arriviamo alla domanda fondamentale. Ma come è stato possibile scoprire questo pianeta che, viste le dimensioni, dovrebbe essere invisibile, dato che tutto ha più il telescopio può accertare l'esistenza di quella stella, ma non di più. E allora bisogna fare riferimento ad alcune informazioni molto importanti. Il telescopio ha dei sensori che sono tarati in modo tale da non ricercare la nitidezza delle immagini, ma a rilevare variazioni della luminosità delle stelle. Per quale motivo? Perché la luminosità di una stella può essere il segnale che permette di scoprire un pianeta che risulta invisibile. Come? Dato che il pianeta, se esiste, ha un movimento di rivoluzione, accadrà inevitabilmente che a un certo punto si sovrapporrà interponendosi fra la stella e la sonda Kepler. E allora è quello il momento in cui i sensori della sonda rileveranno una diminuzione della luminosità. e se questa non è improvvisa, ma è crescente in un certo lasso di tempo e poi stabile e poi di nuovo decrescente, allora questo porta anche a far capire che il pianeta è provvisto di un'atmosfera in quanto la sovrapposizione dell'atmosfera alla luminosità della stella non ne impedisce assolutamente il passaggio verso la sonda Kepler, ma ne attenua soltanto una parte della luminosità. Nel momento in cui la parte più consistente del pianeta si sovrappone alla stella, allora si ha il picco di decrescita della luminosità. Ora, il tempo in cui avviene tutto questo permette anche di comprendere, di capire, misurare la velocità media di rivoluzione e da questa, utilizzando le leggi di Keplero, è possibile stabilire anche la distanza tra la stella e il pianeta e inoltre, anche per mezzo di altre misurazioni e altri sistemi, è possibile calcolare la densità del pianeta. La distanza rilevata permette inoltre di capire che questo pianeta si trova quasi più o meno alla stessa distanza che c'è fra la Terra e il Sole e quindi viene a trovarsi in una zona, in una fascia, che è la fascia di abitabilità cioè la fascia in cui possono esistere le condizioni di presenza di acqua liquida e di temperatura e di atmosfera più o meno simile a quella della Terra. Questa fascia di abitabilità generalmente viene considerata corrispondente a quella che va dal pianeta Venere al pianeta Marte del Sistema Solare. A questo punto è necessario fare un'altra precisazione. Allora, per essere sicuri che quella diminuzione di luminosità dipende effettivamente dal passaggio di un pianeta davanti alla stella che ne è il centro di rivoluzione, è necessario che questa osservazione sia confermata per almeno altre tre volte perché se si tratta di un pianeta, questo dovrà periodicamente ritornare a occupare di nuovo la stessa posizione che ha permesso di rilevare l'attenuazione della luminosità. Ritornando alla sonda, bisogna dire che essa sta osservando una zona ristretta di cielo che è compresa fra le costellazioni del Cigno, della Lira e del Drago. Riesce a coprire 115 gradi quadrati per una profondità di visione di 3000 anni luce. Una zona che è appena lo 0,28% della volta celeste. Nonostante ciò, però, ha già scoperto da gennaio a luglio 2015 4.696 pianeti candidati che si trovano nella zona di spazio abitabile. In conclusione, è bene far chiarezza su quelli che sono i reali aspetti di interesse che rendono questa scoperta importante. Infatti, esso non è il pianeta con il maggior indice di abitabilità sin d'ora trovato, bensì la sua unicità risiede nella configurazione, molto simile a quella adottata dalla Terra nel suo sistema solare. Ciò lo renderebbe strumento predittivo rispetto all'evoluzione di fenomeni di cambiamento climatico e d'effetto serra verso i quali il nostro pianeta sembrerebbe destinato a progredire. Vi chiederete perché? Semplicemente risulta da rilevamenti che la stella Kepler 452 ha 6 miliardi di anni di età e quindi il suo sistema solare è molto più vecchio del nostro, assumendo i connotati di una foto del nostro futuro. In ultima analisi, solo per dovere di cronaca, si ricorda che Kepler 186f resta il pianeta con maggior indice probabilistico di abitabilità, con il suo 88% infatti si attesta al di sopra dell'83% di quest'ultimo ritrovamento. Grazie a tutti. Grazie.